Sono un semplice foglio rosso, vestito a festa e messagger promosso, vengo donato, chiuso o legato ad una persona, nudo o incartato, con poche righe, scritto di fretta o con parole dalla forma perfetta, cerco d'esprimer, preciso, impacciato, quel che chi m'ha scritto, emozionato, approvato, nel mio caso, prima di sera, vengo alla vista con sorpresa vera, e porto l'ardore di un innamorato che ti dice soltanto come te, nessuna o mai amata.